Le 5 criptovalute da tenere d'occhio per il 2024, un'analisi Il mercato delle criptovalute è noto per la sua volatilità e la sua capacità di generare opportunità di investimento uniche. Tuttavia, è importante notare che le previsioni nel mondo delle criptovalute sono altamente speculative, e investire in criptovalute comporta rischi significativi. Ecco 5 criptovalute che potrebbero essere interessanti da tenere d'occhio nel 2024, ma ricorda che questa è solo un'analisi speculativa e non costituisce un consiglio di investimento. Bitcoin BTC Il Bitcoin rimane la criptovaluta più conosciuta e stabilmente quotata. Nel 2024, il Bitcoin potrebbe beneficiare della crescente adozione istituzionale e dell'interesse degli investitori. La sua limitata offerta di 21 milioni di monete e la sua posizione come riserva di valore digitale potrebbero continuare a sostenere il suo valore nel tempo. Ethereum e TH Ethereum è la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato ed è conosciuta per essere la piattaforma su cui sono costruiti molti dei progetti di finanza decentralizzata ad EFI e delle applicazioni decentralizzate di apps. Nel 2024, il rilascio di Ethereum 2.0 potrebbe migliorare la scalabilità e le prestazioni della rete, rendendo ETH ancora più interessante. Cardano ADA Cardano è una piattaforma blockchain con un approccio incentrato sulla ricerca scientifica e sulla sicurezza. Il progetto sta lavorando su aggiornamenti importanti che potrebbero portare a maggiore utilizzo e adozione. Nel 2024, Cardano potrebbe crescere in importanza nell'ecosistema delle criptovalute. Polkadot Polkadot è un progetto che mira a facilitare l'interoperabilità tra diverse blockchain. Con l'interesse crescente per le blockchain interoperabili e i progetti cross-chain, Polkadot potrebbe diventare una parte fondamentale dell'infrastruttura blockchain nel 2024. Solana Soul Solana è una blockchain ad alte prestazioni con tempi di conferma veloci e costi di transazione bassi. Ha guadagnato notorietà come piattaforma per applicazioni decentralizzate e EFI. Nel 2024, Solana potrebbe continuare a competere come alternativa a Ethereum, attirando sviluppatori e progetti. Considerazioni finali Prima di investire in criptovalute, è fondamentale condurre una ricerca completa, diversificare il tuo portafoglio e consultare un consulente finanziario esperto. Le criptovalute sono notoriamente volatili, e le prestazioni passate non sono indicative di risultati futuri. Assicurati di comprendere i rischi e le opportunità associate alle criptovalute investi in modo responsabile, tenendo conto del tuo profilo di rischio personale. Condividi, iscriviti e unisciti alla nostra nuova avventura su YouTube.